Chiesa Ecco questa è l'ennesima dimostrazione che lì cosa fa con un tiro cross non si è capitolo il mancino nel proprio destro da quella posizione o la metti dentro nel senso che con un cross è decisamente e tecnicamente migliore Dentro Stefano al posto di Ebischer è durosa questa sconfitta perché i campioni di Europa escono dal campionato europeo con una prestazione bruttissima e soprattutto sarà necessario un reset totale in vista delle qualificazioni dei prossimi campionati del mondo perché l'Italia manca da due edizioni della più importante manifestazione del calcio e con questo attempiamento con questo spirito rischia di fare un Chris davvero poco demoroso Sarà necessario cambiare radicalmente e questa prova deve essere un punto di ripartenza assoluta Si perché sono mancati proprio tutti i componenti per giocarsi un lontano di finale per come c'eravamo arrivati quel 98esimo che doveva dare qualcosa a livello proprio di oltre che di motivazioni proprio di carattere di come dire siamo ancora in partita fischia con pieno merito la Fizzera vince 2 a 0 ed elimina un'Italia improponibile dal campionato europeo alcuni azzurri a terra e l'acqua che come pastore è patitato forse dolorante ma non ci aspettavamo una prestazione così brutta decisamente la peggiore e questo lontano europeo era cominciato certamente non fu in favore del pronostico ma non era che l'Italia fosse ancora così ci fermiamo con una breve pausa poi andiamo naturalmente con i commenti con il wifi e il 5G di Win3 hai una connessione potente e affidabile anche in una casa fuori città da 23 ore in avanti a roba al mese vieni nei Win3 store con Win3 ti sorridere molto e anche la connessione Win3 semplifica